ok giorno 2 col raglie bigwig front da enduro in acciaio cercando di evitare pedoni portando regali di natale nel frattempo tra front cattiva oltre a questa da cui oggi è perché la mia pulita ok attacco della salita 10 minuti e 30 43 minuti esatti siamo arrivati qui a santa maddalena ok siamo andati in bocca del portaggio 58 minuti per arrivare qua quindi buon 46 minuti totale allora per il portaggio è meglio la propene questa l'acciaio pesa sulle spalle allora ad arrivare qui un'ora e 5 minuti e 30 secondi meno sì meno io sto contando anche darti il regalo di precisione che precisione a 1 e 16 in bocca del sentiero andiamo con il piccolo raglie con il piccolo gian già hanno vista dietro neanche col propane è più bello vieni qua si vieni vieni no qual è più bello ecco acqua filati sento qualcuno alle spalle le mie spalle che vuole uccidermi lui vola no di qua di qua qual è alto eh sì ancora si sale che falle ci sono andiamo scendere da questa deviazione se con l'ambo chiuso ha già non c'è l'ambo Eh già Luca, cazzo del rimane, ma io sto sbattando del putto, che cazzo fa? Madonna, che cazzo fai? Che bene sei che sei, vergognati. Che cazzo di animale che sei ho? No, dai. Vai, vai, faccio strada. Trovate pure un po' le linee. Come cazzo li seguo? Sì, che era una linea quella, quella mi sembra una morte. Mamma mia. Sto scoppiando le gambe. Oddio, non ce la so più. Prova se era più alto, hai visto dove sono andato alto? Ah Gesù. Hai aperto l'ambo? Sì sì, l'ambo è tutto aperto, vai vai. Sì sì, l'ambo è tutto aperto. Sì sì, l'ambo è tutto aperto. Vabbè, ciao. Salve. Mamma mia. Perché non va male da fronte, va qui? No, non va male per niente. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Sì. Vediamo un po' dove ci vuole portare a morire Gian. Ah, in salita mi vuole portare, grazie. Allora, come un vaso va tornato, tu vai avanti, c'è una linea che testa l'altra. La linea che proseggiate le lemerle. Chissà perché mi sembra un po' una cattiva idea. Come tutti i giri con Gianluca. Gli guido la coprana e non lo so, non lo so. Atenzione! Il tuo passaggio? Si fa, eh. Eh, dai che ci sei, dai che ce l'hai? No, non ce l'hai. Gianluca che non riesce a fare il nuovo espresso. Niente, no, Gianluca ormai che è vecchio anche lui. Ti faccio aperto così, va, spostati. Vai, prova. Aspetta, l'ultimo tentativo. Ok, vai, vai. Non mi scarica la batteria la copro. Eccolo. Allora, vedi? va fa culo va è troppo ripido si si ti insegno come si fanno i nostri forza di animale guarda io lo faccio così ti tira giù eh possiamo stare qua tutta la giornata e vedi vedi però se vieni qua lo modifichi in un attimo e voglio modificarlo io penso di poterlo fare eccolo è quasi non spesso l'ho lanciato solo che poi sono andato troppo di qua sinistra già stavo cadendo a piedi qua eccolo sento sento qualcuno che sta rompendo le piante il giardiniere di ebolzare è arrivato una potatina eh Gian facciamo una potatina ci sono un paio di curve da rivedere questa l'ho fatta bravo questa curva l'ha fatta ma io non l'ho visto la gopro non l'ha ripreso quindi dai la diamo per buona ma ma io la diamo per buona ma lui è uno che imbroglia di solito dice un sacco di stronzate bravo ma non è che sei una pippa totale ma scusa dobbiamo salire su sta scala secondo te no? cioè vorrei capire dobbiamo salire qua sopra? sui passaggi fattibili di Gian eccoli qua tutto fattibile oddio che animale non è una persona qui la propel non ce la porto neanche che è un sentiero questo? sembra potesse essere che cazzo si sentono è questo? questa è una morte ci si incastra qui Gianluca mi ha portato a vedere una cosa romantica eh qua ci dico Eva non con me ok era un cactus maledetto cactus commetto che il Gian questo l'ha bagnato è bellissimo sono sicuro un giorno di pioggia lui mi involterà su questo sentiero sono certo vai ah belli questi che sono da bunny hop io pensavo qua di mettere delle rampe si fare un doppio con questo si si serve un manubrio da da 700 hai passato del sangue eh io mi sono appunto col cactus ah bello vai vai Gian senza che ti pavoneggi troppo ma si il grip a cosa serve alla fine il grip è sopravvalutato non serve a niente questo è un sentiero da fare con la bici nuova no questo è il sentiero da troppare qui adesso chiediamo in bellezza se c'è un cancello un motivo ci sarà bella Gian ce l'abbiamo fatta a portare la pelle a casa anche oggi come zompa ma ti ho pensato ma ti posso andare ancora avanti a fare il saldo si è andato abbastanza avanti sono andato un po' al limite un po' al limite povero perario